Uno. La mia camera. La camera mia. Due. Suo amico. Amico suo. Tre. La sua casa. La casa sua. Quattro. Tuo padre. Padre tuo. Cinque. Il tuo letto. Il letto tuo. Sei. Sua madre. Madre sua. Sette. Tua amica. Amica tua. Otto. Il suo nome. Il nome suo. Nove. I miei libri. I libri miei. Dieci. Le loro case. Le case loro. Undici. Le nostre penne. Le penne nostre. Dodici. Le vostre sedie. Le sedie vostre. Il. Bonne. Four. ри d Sta. E. Ho. in Abb Katie. In Abbittedis. Diaper는 Tito. Das para dеннаяاف. Giuse. ids는 investigate spot.